Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline Unesco. Oggi siamo spettatori del Giro Under 23. Che tra i no può essere un evento del genere per il turismo del nostro territorio? Sicuramente oggi è una giornata importante, ancora una volta queste colline sono oggetto di grande visibilità e soprattutto è bellissima l'idea di avere questo connubio tra le bellezze naturali del posto e un'attività agonistica come quella del ciclismo che in Veneto, ma direi in tutta Italia, ha un'importanza straordinaria. E il fatto che oggi passi proprio l'Under 23, quindi i giovani, per noi anche da un punto di vista proprio di immagine è importante perché è bene che queste colline vengano proprio vissute anche dalla nostra gioventù. Quali sono i futuri programmi dell'Associazione e quali gli obiettivi prefissati per chiudere il 2021? Allora gli obiettivi prefissati sono tanti e per chiudere il 2021, anzi direi per aprire questa stagione che ci vede finalmente protagonisti dopo un anno e tre mesi come sappiamo bene di pandemia. Abbiamo tante attività e sicuramente la possibilità di godere delle colline attraverso dei percorsi non solo a piedi ma anche in bicicletta perché oggi quello che ci chiede il turista è proprio questo, quello di poter visitare delle zone così naturalisticamente belle attraverso un turismo lento e il turismo lento può essere dato sicuramente dalle camminate ma anche dalla bicicletta, non soltanto per gli agonisti ma anche per gli appassionati, per gli hobbisti. Non solo il Giro dei Grandi ma anche gli Under 23 sul muro di Cadelpoggio, che emozione a ospitarli di nuovo e che visibilità dà alle nostre colline. Sicuramente il ciclismo oggi è diventato un volano importante per questo territorio, lo è sempre stato ma oggi più che mai da quando siamo diventati 9 luglio del 2019 patrimonio dell'umanità. Oggi il Giro d'Italia, Under 23, ritorna dopo il 2018. In quell'occasione era stata fatta la prima volta una gara in real time, cosa vuol dire che gli ultimi corridori partivano in base di stacchi. In quell'occasione vinse Vlasov e Almeida, fu il secondo arrivato e due nomi che oggi nel parco nascenico internazionale ricoprono un ruolo importantissimo a livello proprio di professionismo. Ma il Giro d'Italia che ormai è di casa dal 2009, continua a passare ripetutamente su queste meravigliose colline e sul muro di Cadelpoggio, ha fatto sì che questo territorio attraverso dei simboli venisse riconosciuto a livello ormai mondiale. Quindi ha aperto le porte a un'economia legata al turismo, al cicloturismo, fatta di persone che vogliono sì pedalare ma vogliono anche scoprire un territorio alle sue giacimenti agroalimentari.